Ti permette di fare delle lavorazioni, soprattutto sulle florature, che altre macchine non fanno e questo mi toglie parecchio lavoro dalle macchine utensili. L'utilizzo di un'unica lente credo sia stato rivoluzionario rispetto a quello che è la concorrenza e in particolare le velocità di taglio sono aumentate di gran lunga rispetto ai vecchi CO2 che si utilizzava. Ci siamo rincorsi per tanto tempo, quindi mi è sempre piaciuta come azienda ma l'ho scoperta bene e la sto vivendo solo nell'ultimo periodo. Ha portato alla mia azienda a grossi vantaggi, sia a livello economico per il consumo dei gas e per il consumo elettrico, sia a livello di settaggi. È stato un plug and play, acceso l'impianto abbiamo subito cominciato a tagliare il primo giorno con buoni risultati e quello per noi è stato una grande sorpresa. Quindi non abbiamo più i fermi di cambio ugello, cambio lente e quindi dobbiamo solo dare lo start alla macchina e la macchina è sempre pronta per tagliare. In quantità di tempo lavoriamo più o meno al doppio della produzione precedente.